Ecco arrivare i primi baci sulle labbra in pubblico dopo l'uscita dal grande fratello VIP. Francesco Monte e Giulia Salemi sono tornati a Milano e subito sono andati al cena fuori con alcuni amici, tra cui l'ex coinquilina Benedetta Mazza. Dopo aver mangiato fuori dalla ristorante, la bella italo-persiana ha cercato di ottenere un bacio da quello che ormai è il suo fidanzato a tutti gli effetti, come i due hanno anche raccontato nella prima intervista a TV post-reality. Dopo un po' di esitazione, Francesco le ha concesso il tenero gesto davanti agli amici e soprattutto alla fotocamera del telefono. Insomma, se qualcuno aveva dubbi su quali sarebbe stato il loro rapporto una volta usciti dalla casa vicino di città, dovrà ricredersi. Giulia e Francesco sono ufficialmente fidanzati e sembrano stare anche molto bene insieme.